Oggi siamo qui per presentare questa importante manifestazione, come sapete l'Aggiunta Nazionale dell'Alconi ha segnato alla Regione Abruzzo lo svolgimento della finale nazionale del trofeo Coni edizione invernale 2024. Le date sono quelle dal 12 al 15 dicembre. Grazie soprattutto ai sindaci, ai comuni interessati all'evento che sono tutti qua presenti e naturalmente grazie all'assessore per il contributo che ha dato all'organizzazione per far sì che questa manifestazione riesca nel miglior di noi. L'organizzazione del nostro territorio per me è la manna dal cielo, quindi immediatamente si trovano disponibilità e risorse per portare a casa un successo che deve essere una divulgazione delle nostre bellezze pasaggistiche, dei nostri territori, dei nostri imporghi, delle nostre montagne. Mi sono sconosciuta a tante persone, diciamo negli ultimi anni si sta conoscendo sempre di più, io l'amo tantissimo, ormai mi tengo una polizia da cucita. Carò Vindoli, questo con Cecilia e il Presidente di Bastario ne abbiamo discusso, così i ragazzi sono i ragazzi e quindi onorati di raccogliere questa sfida e assolutamente ansiosi di fare il meglio per tutti. Grazie. Grazie a tutti gli intervenuti.